Sì, sono circa 150 comuni, però sono lasciati senza sportelli. In questi comuni ci abitano delle persone umane, ci abitano principalmente persone anziane, magari sofferenti, che per fare un'operazione bancaria si devono spostare chilometri a chilometri, perché non hanno più uno sportello bancario che li assiste sul territorio. Cosa spinge gli istituti di credito ad agire in questo senso e a chiudere gli sportelli bancari? Sì, da alcuni anni gli istituti di credito giocano a chiudere gli sportelli bancari per risparmiare, perché mentre prima gli sportelli bancari si vendevano da istituto a istituto, quindi venivano comprati, ora addirittura si chiudono e c'è la volontà di chiuderne il più possibile, perché per costringere i clienti ad apparersi dei nuovi mezzi tecnologici, del digitale, quindi praticamente del telefonino, del computer, dell'iPad e così via. Però l'inconveniente è che molte persone, anche se hanno studiato, non vogliono usare questi mezzi perché ne hanno paura praticamente. E questa paura è giustificata dal fatto che giorno dopo giorno noi apprendiamo che ci sono truffi in giro, attraverso il pissing, addirittura sono stati truffati dai bancari della Banca d'Italia pure, negli ultimi mesi, andiamo su internet nei giorni scorsi abbiamo appreso che anche dipendenti della Banca d'Italia ci sono caduti nella trappola di questi truffatori che inducano in errore praticamente l'utente, lo fanno entrare su un sito e dopo fanno quello che debbono fare, gli sottraggono del denaro. Abbiamo detto attualmente circa 150 comuni senza sportelli, è una situazione che potrebbe peggiorare? Sicuramente noi temiamo di sì e speriamo che in Sicilia non succeda, in Sicilia abbiamo perso parecchio in termini anche occupazionali, non dimentichiamoci che qui c'erano le sedi di due importanti istituti di credito, Cassa di Sparmi e Banco di Sicilia che assieme avevano un personale di 15.000 addetti e ora nell'istituto che ha rilevato queste due banche, più Banca di Roma e a credito italiano ce ne sono meno di 3.000 praticamente, quindi addirittura solo in questi istituti che mancano ci sono 12.000 posti in meno, in più praticamente se andiamo agli sportelli bancari possiamo vedere che i piccoli comuni vengono abbandonati e già c'è un processo di desertificazione in corso nel territorio e la popolazione praticamente si spopola sempre più, quindi è un disastro per il territorio siciliano, per l'economia siciliana che non è brillante praticamente perché noi a questo punto anche invidiamo i governanti, tutti i politici a mettersi assieme per un'emergenza in Sicilia perché praticamente con i dati della Banca d'Italia si dicono che i dati economici sono al di sotto del dopoguerra, non è possibile, non è possibile che da Trapani a Messina col treno ci si impiegano 9 ore, quindi ci sono cose che non funzionano in questa Sicilia quindi noi invidiamo praticamente il capo del governo siciliano, onorevole Nello Musumeci che oltretutto è un collega bancario, a iniziare praticamente la sua battaglia vera a mettersi a capo del popolo siciliano per dire che le cose non funzionano bene, non è tutto a posto e a cominciare a dire basta alle banche che chiudono a sportelli bancari È già iniziato un dialogo tra il governatore e il vostro sindacato? Allo Stato non è iniziato, noi avevamo avuto un'interlocuzione con il vicepresidente della regione che in effetti lui è sensibile a questi problemi, però riteniamo che si debba andare più in alto che si debba impegnare la maggiore istituzione della Sicilia che è la figura del governatore e il presidente della regione Nello Musumeci